Non ci desse così un giudizio sulla manifestazione, e se uno che va alla ricerca di funghi pure? Dimmi. No, dico se vai alla ricerca di funghi e cosa ne pensi della manifestazione? Ma per me sta bene perché è una bella festa, per quanto mi riguarda a me è una grande manifestazione, mi piace la gente molto e tutto quanto. Tu sei uno appassionato, vai alla ricerca di funghi? Sì. Quest'anno ne hai trovati molti? Ne ho trovato un paio di guindalli, diciamo. E come mai non hai fatto nessuna esposizione? Eh vabbè, non l'ho fatto perché... E li sei mangiati? No, un po' al compagno, un po' all'amico, un po' a destra, un po' a sinistra, è tutto qua. Va bene, vieni che stiamo a Ferdinando, adesso avviciniamoci ancora un po', abbiamo un signore che sta qui e si sta assaporando un bicchino di vino.